L'atletica leggera non si ferma mai, né d'estate né d'inverno. È certo che durante il periodo estivo l'atletica ha il suo momento di massima rilevanza perché si svolge soprattutto sulla pista, che è il luogo in cui l'atletica dimostra di essere la regina degli sport. Una gara su pista come è il Musacchio, sulle pedane e sulla pista del nostro campo comunale coni palladino di Campobasso richiede un impegno notevole ma dà dei risultati importanti perché si sente il calore del pubblico, si sente il calore dei compagni che fanno il tifo, si sente davvero l'importanza di un movimento che nel corso dell'anno fra strada, pista e campestre fa circa una settantina di gare. E per una regione come la nostra non sono un numero limitato. Saranno circa 250 gli atleti di otto regioni del centro-sud che prenderanno parte domani pomeriggio al Memorial Prospero Musacchio sulla pista di Fontanavecchia a Campobasso. Si cimenteranno nelle corse veloci, mezzofondo, marcia 5 km ma anche sui lanci e sui salti i cadetti e le cadette di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Uno sforzo è incomiabile per il Comitato regionale FIDAL.